Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Il regno del volere divino estretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in ammessa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Padre nostro, che sei, di cieli, liberaci da questo male. Padre, tu fia il amore. Venga il tuo regno. Tu soffriamo voi. Tu siamo volentieri, tu muovere. E non sembra te. E tu e te. come il cielo così terra. Come il cielo così terra. Come il cielo così terra. Padre, ti canto una brighiera. quello che tuo figlio ci ha insegnato. Grazie a tutti. Come il cielo così terra. God. Dal libro di Cielo, volume 23, 23 ottobre 1927. La piccola bambina, come la volontà divina, è regno di vita. La necessità delle sue conoscenze, come Cielo e Terra stanno riverenti ad ascoltare le conoscenze del Fiat Divino. Amore e tenerezza di Dio nel creare l'uomo. La mia povera mente me la sentivo inabissata nel Fiat Divino e mentre continuavo i miei atti in esso, vedevo innanzi a me una piccola bambina tutta timida, pallida, come se temesse di camminare nell'immensità della luce del volere divino. Ed il mio adorato Gesù è uscito da dentro il mio interno e riempiendosi le sue sante mani di luce, metteva quella luce nella bocca della bambina, volendola affogare di luce. Onde prendeva luce e la metteva negli occhi, nelle orecchie, nel cuore, nelle mani e piedi della piccola piccina. Ed essa restava investita dalla luce, si coloriva tutto e restava come impicciata ed affannata nella stessa luce. Gesù si divertiva nell'affogarla di luce e si compiaceva nel vederla impicciata in essa e rivolgendosi a me mi ha detto Piccola figlia mia, questa bambina è l'immagine dell'anima tua timida nel ricevere la luce e le conoscenze della mia divina volontà ma io ti affogherò con tanta luce affinché perda il residuo della timidezza dell'umana volontà perché nella mia non ci sono queste debolezze ma coraggio e fortezza divina insormortabile ed invincibile. Per formare il regno del mio fiat nell'anima distendo in lei come fondamenta tutte le conoscenze di esso e poi prendo possesso distendendovi la mia stessa vita per avere il mio regno. Vedi che grande diversità del regno dei re della terra è quello del regno mio. I re non mettono a disposizione di ciascun individuo la propria vita né la rinchiudono in loro né rinchiudono la vita dei popoli in loro e perciò il loro regnare è soggetto a finire perché non è vita che corre tra l'uno e l'altro ma leggi e rinposizioni e dove non c'è vita non c'è amore né vero regnare invece il regno della mia volontà divina è il regno di vita la vita del creatore rinchiusa nella creatura è quella della creatura trasfusa ed immedesimata col creatore perciò il regno della mia divina volontà è di una altezza e nobiltà inarrivabile l'anima viene costituita regina e sai tu di che viene fatta regina? regina della santità regina dell'amore regina della bellezza della luce della bontà della grazia insomma regina della vita divina e di tutte le sue qualità che regno nobile pieno di vita è questo regno della mia volontà ora vedi dunque la grande necessità delle conoscenze di essa esse non sono solo la parte fondamentale ma l'alimento il regime l'ordine le leggi la bella musica le gioie la felicità del regno mio ogni conoscenza possiede una felicità distinta esse sono come tanti tasti divini che formeranno la bella armonia in esso ecco perciò sto tanto largheggiando nel dirti tante conoscenze del mio fiat divino e richiedo da te somma attenzione nel manifestarle perché sono la base come un esercito formidabile che manterranno la difesa e faranno da sentinella affinché il mio regno sia il più bello il più santo e l'eco perfetto della mia patria celeste onde Gesù ha fatto silenzio e poi ha soggiunto di nuovo figlia mia quando la mia divina volontà vuole mettere fuori una sua conoscenza o un atto nuovo cielo e terra riverenti la onorano e l'ascoltano tutta la creazione si sente scorrere in sé un atto nuovo divino che con umore vitale l'abbellisce e la rende doppiamente felice e tutti si sentono come onorati dal loro stesso creatore che col suo fiat tornipotente comunica a loro le sue nuove conoscenze ed aspettano l'attitudine di quella conoscenza nella creatura per vedere l'atto nuovo del volere divino ripetuto nella creatura per avere la conferma di quel bene e la gioia e felicità che porta la nuova conoscenza allora la mia volontà si atteggia a festa perché esce da sé una vita divina la quale mentre è diretta ad una creatura si spande e si comunica poi a tutte le creature dopo di ciò stavo seguendo il mio giro nel volere divino e portandomi nell'Eden per essere presente quando la maestà divina avendo formato la bella statua dell'uomo gli stava dando la vita litandolo col suo fiato onnipotente per poter glorificare il mio creatore in un atto così solenne amarlo ed adorarlo e ringraziarlo per un amore così eccessivo e traboccante verso l'uomo ed il mio divino Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia quest'atto di formare e di infondere la vita nell'uomo col nostro alito onnipotente fu così tenero commovente e di gioia così grande per noi che tutto il nostro essere divino traboccò fuori tanto in amore che con forza rapitrice era aprire le nostre qualità divine per infonderle nell'uomo nell'alitarlo tutto versammo in lui e nel fiatarlo mettevamo il nostro essere supremo in comunicazione con lui in modo da renderlo inseparabile da noi questo nostro alito non cesso mai perché se nella creazione di tutto l'universo fu la nostra volontà che si costituiva vita di tutto nell'uomo non solo si dava il nostro fiat ma insieme con il nostro alito si dava a lui la medesima nostra vita e questo nostro alito non cessa ancora per continuare la generazione delle altre creature per renderle inseparabili da noi è tanto il nostro amore quando facciamo un'opera che fatto una volta resta l'attitudine di farla per sempre perciò l'ingratitudine dell'uomo è grande perché disconosce disprezza offende questa nostra vita in lui medesima e siccome quando si emette il fiato per fiatare si emette fuori e si ritira dentro per poter di nuovo fiatare nel fiatarlo diamo noi a lui e nel ritirare il fiato ritiriamo l'uomo in noi e non sentendolo venire in noi perché la sua volontà non è con noi sentiamo tutto il peso dell'ingratitudine umana ecco perciò chiamiamo te per darti il nostro alito incessante affinché come lo ritiriamo per uscirlo di nuovo ti sentiamo venire in noi per ricevere il compimento della nostra volontà nell'atto solenne di uscire il nostro alito rigeneratore per generare le creature bene come sempre il signore oggi tra l'altro ci spiega anche come mai ogni volta che si termina di leggere almeno per quanto mi riguarda un brano di questi si rimane un po' sempre non dico a bocca aperta ma edificati contenti cogliendo tante piccole sfumature ecco sperando poi di poterle focalizzare per pensarci un po' sopra e poter condividere questa questa meditazione questa riflessione perché Gesù oggi ha spiegato in una delle parti di questa di questo brano che le conoscenze sono qualcosa di fondamentale nella edificazione del regno e della vita della divina volontà in noi possiamo sperare che di meditazione in meditazione anche se poi dovessimo sorprenderci come dire nella pratica un po' operativa e cosciente non sempre molto solleciti molto attivi molto molto presenti possiamo sperare che comunque già con questo lavoro assiduo di uturno mi avviso è fondamentale dedicare per chi vuole vivere in questo regno anche se ovviamente non ascolta questa meditazione non fa niente non fa però l'importante è che un brano al giorno se lo prenda se lo legga e almeno ci ripeto un po' sopra perché questi testi non si possono leggere come se fosse un romanzo o un fumetto nel senso che li leggo e circa minuti dopo ne sono già dimenticati non serve a niente quasi a niente proprio niente no ma possiamo sperare che mano a mano che si ritorna si riflette si medita succede quello che Gesù dice la grande necessità delle conoscenze di esse che non sono solo la parte fondamentale ma l'alimento appunto il regime l'ordine le leggi la bella musica le gioie la felicità del regno mio probabilmente questa sensazione come dire di gradevole benessere che assomiglia un po' alla gioia che si prova generalmente al termine della lettura di questi brani appunto è espressione di questo che Gesù dice sono le gioie la felicità del regno mio ogni conoscenza prosegue possiede una felicità distinta questo testo è del 23 ottobre del 1927 io non ho mai contato quanti sono tutti gli scritti di 36 volumi però sicuramente questo è del 23 ottobre del 1927 è un unicum non ce ne sono altri è questo ricordiamo l'abbiamo meditato anche ieri la grande arte di Dio che poi in parte c'è anche comunicata del non saper ripetere le stesse cose non sapere insomma è un modo di dire ma Dio ecco nella sua nel suo splendore nel suo essere veramente splendido e magnificente non fa mai una cosa uguale all'altra quindi questo scritto è lo scritto di questo giorno e ha le sue peculiari felicità distinte da tutti i quanti gli altri brani è importante comprendere questo no? perché certamente tu dici basta leggere il libro di cielo no però la lettura e la meditazione quindi l'approfondimento attento è certamente una componente essenziale fondamentale per entrare in questo mondo questo è ovvio questo qui no? dice Gesù sono la base però è come un esercito fondamentale che manterranno la difesa se faranno la sentinella attenzione la base vuol dire che questo non basta perché se questo bastasse cadremmo penso che molti lo conoscono ne ha parlato anche il Papa proprio nel documento nella lettera che stessa a proposito della santità cadremmo nell'ognosticismo cioè basta conoscere qualche cosa e basta e il gioco è fatto quindi la mera conoscenza mi dà tutto questo non funziona così sappiamo bene che non funziona così però la conoscenza certamente è la base quindi se non è tutto però certamente senza la conoscenza non c'è niente ecco perché questo è un lavoro fondamentale ormai sono diversi anni non so quando finirà arriverò al 36esimo volume però è una cosa che confesso faccio anzitutto per me la farei comunque la metto in comune perché fin dai primi tempi insomma mi arrivarono sollecitazioni insomma così piccole richieste insomma di renderle in comune ho detto già altre volte quindi certamente molto molto volentieri se può servire a qualcuno sicuramente il brano almeno lo leggo a alta voce quindi quello sicuramente bene fa il resto lo affidiamo al signore no passiamo all'immagine con cui si apre questa meditazione di questa bambina ripiena di luce piena zeppa di luce affogata ecco dice impicciata d'accordo sia un po' quando siamo impicciati no quindi è stata proprio l'immagine di 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 qualcuno che sta talmente avvolto come dire avvolto e coinvolto in in questa luce che 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 non si riesce appunto a districare non riesce ad uscirne speriamo che non sia peccato in queste circostanze insomma che venga un po' di santa invidia insomma di non soltanto in me ma anche in tutti no ecco magari insomma fossimo impicciati nella luce affannati nella luce sai che bello affanno no quindi riempiti di luce Dio è luce e in lui non ci sono tenebre si legge nella saga scrittura questo non è un una cosa da poco no e allora Gesù dice ma guarda tu sei un po' timida nel ricevere la luce però vabbè per ora va bene dice no ma io arriverò il momento in cui ti affogherò con tanta luce perché attenzione la timidezza è un residuo di umana volontà oh questa è una cosa molto interessante la timidezza di per sé è sempre un limite no è una miseria è una debolezza attenzione la timidezza non essere timidi non vuol dire essere spavaldi d'accordo o invadenti o maleducati il contrario della timidezza è la disinvoltura la disinvoltura che però mantiene sempre un garbo un tatto un modus un rispetto questo lo si vede per esempio nella nostra relazionalità come sono le nostre relazioni no le relazioni sopranaturali sono disinvolte non c'è impaccio non c'è timidezza non c'è imbarazzo ma al tempo stesso sono molto rispettose sono c'è un termine che si usa per si usava un tempo per gli ecclesiastici che è la gravitas la gravitas ecclesiastica quindi sono sono ammantate di questa alone di di bella gravità quindi che non autorizza in debite mancanze di di rispetto ecco di di invasione della libertà altrui o peggio ancora della privacy altrui insomma no o mancanze di rispetto o eccessive confidenzialità eccetera sarebbe da fare tuttanto una una meditazione su questo su questo punto la timidezza è una debolezza e dice Gesù attenzione che nella mia volontà le debolezze non ci stanno ci stanno proprio e cosa c'è? coraggio e fortezza divina insormontabile ed invincibile bellissima questa espressione coraggio e fortezza divina insormontabile ed invincibile i figli della divina volontà queste cose se sono figli della divina volontà le devono percepire e il coraggio e la fortezza insormontabile ed invincibile quando è che si manifestano? si manifestano quando hanno l'occasione di essere provati quindi nelle prove nelle tribolazioni nelle difficoltà di ogni genere paura? un figlio della divina volontà paura? ma io ho molte ho molte perplessità su questo certamente la paura di per sé è una passione creata da Dio e che serve certamente a fuggire le cose necessarie da fuggire facciamo un esempio per non essere fraintesi non avere paura non significa essere sciocchi cioè siccome non ho paura mi butto dal terzo piano perché tanto non ho paura una una persona che dice questo non è appunto coraggioso forte ma è uno sciocco uno stolto mi ogni tanto capita di percepire in giro anche come dire un contatto con la divina volontà che rischia a volte di scadere nel fatalismo cioè un'espressione come per esempio tutto è volontà divina di per sé è giusta però calma ci sono tante situazioni in cui noi siamo chiamati a fare delle scelte e non possiamo dire io faccio faccio qualunque scelta tanto poi ci pensa la volontà divina oppure la faccio nella volontà divina quindi anche se in questa cosa ci fossero degli effetti negativi tanto mi fondo con la divina volontà che non mi succede niente io quando sento queste cose confesso insomma dico ad alta voce ma a me mi si addrizzano i capelli che non ho più dico ma chi gliela ha messo in testa queste cose a quest'anime questo non è vivere nella divina volontà questo è vivere e questo è vivere da 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 scellerati da scriteriati da screanzati sono tante le situazioni della vita e anche questi nostri tempi travagliati non 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 è che sono parsimoniosi nel presentarceli anzi dove siamo messi dinanzi a delle scelte gravi dove devo mettermi in saluto devo capire che cos'è la divina volontà non posso dire agire di impulso faccio questa cosa tanto mi fondo con la divina volontà oppure ci pensa la divina volontà se ci dovesse essere qualcosa che non funziona la divina volontà me ne preserverà io non approvo nemmeno minimamente un tale modo di come dire di di procedere e di pensare e lo ritengo altamente pericoloso e fuorviante tra l'altro e deresponsabilizzante allora pensiamo alle tentazioni di Gesù nel deserto il diavolo che gli andrà a dire buttati di sotto dal pinnacono dal teppio che tanto vengono gli angeli del cielo a a reggerti e che doveva fare Gesù doveva buttarsi di sotto dire giusto certamente tanto figurate se mio padre mi fa morire verranno gli angeli a difendermi ma ti pare che si può fare una cosa del genere io capisco che non è tanto semplice che però vorrei tanto ecco le poche persone che ascolteranno questa meditazione insomma e alle altre il Signore glielo farà capire io ritengo questo un punto molto molto delicato molto importante cioè di di cercare di di comprendere bene quando ci sono delle cose che dipendono dall'esercizio della nostra libertà umana noi non possiamo scaricare la responsabilità delle nostre azioni sulla volontà divina oppure andare a chiedere alla volontà divina che come dire ci protegga da effetti indesiderati che sono stati frutto di scelte sconsiderate irresponsabili affrettate non ponderate questo non si deve fare questo qui per nessun motivo conto che io faccio discernimento mi metto a pregare insomma sento perché per discernimento la volontà di Dio uno deve fare un percorso anzitutto a volte deve acquisire delle informazioni concrete e dettagliate in ordine alle scelte che si trova a fare non può non può agire senza perché se agisce senza averle prese è un imprudente la prudenza non è certamente un atto conforme alla divina volontà perché nella divina volontà tutte le virtù cristiane non solo che ci sono ma c'è di più ricordiamo tutti i discorsi che fa Gesù sulla vita secondo le virtù e la vita è una divina volontà no? quindi la prudenza è la prima delle virtù cardinali e noi dobbiamo imparare ad usarla è diverso se poi noi ci dovessimo trovare in una condizione in cui ahimè non riusciamo bene a focalizzare quindi a un certo punto uno qualche cosa deve decidere dice signore mio questo è quello a cui sono voluto arrivare insomma non riesco ad andare oltre magari ho preso tutte le informazioni e consigli allora uno lì come si regola dove sente la maggiore pace la maggiore quiete si orienta e agisce ma non in maniera sconsiderata scriteriata io vedo percepisco sento a volte sono contattato e vedo certe cose che dico ragazzi ecco perché insisto a volte su tante su tante cose no? perché dico così noi ci siamo proprio cioè la divina volontà deve diventare una cosa che ci aiuta nella santità e appunto nella santificazione non nell'irresponsabilità d'accordo? va bene il regno della divina volontà prosegue Gesù è di un'altezza e nobiltà inarrivabile è una cosa grossa è una cosa bella e riprende le solite espressioni dice tu diventerai una regina quando ti avrò appunto inondato diceva ieri inondazione di essa diventerai regina della santità anzitutto regina della santità vedete regina della santità cioè i santi sono coloro che hanno praticato le virtù cristiane non solo che le hanno praticate ma in grado eroico non sono praticate ma in grado eroico non non praticate ma in grado eroico quindi a costo di qualunque sacrificio regina dell'amore regina della bellezza regina della luce regina della bontà regina della grazia ecco tutte quante le proprietà che trasmette la divina volontà alla creatura il brano conclude con un piccolo volo nell'atto creativo dell'uomo a commento del quale Gesù parla ecco dell'immenso amore con cui Dio fa ogni cosa e chiaramente nella creazione dell'uomo ha raggiunto l'apice è rimasto come dire è rimasto estasiato di se stesso insomma dice un amore così eccessivo e traboccante verso l'uomo e poi non ricorderemo quante volte anche Gesù alitava proprio materialmente Luisa o si scambiavano il respiro e qui spiega una cosa molto molto bella dice il il respiro respirare noi ci abbiamo tutti quanti il movimento dell'inspirazione e dell'espirazione no? allora quando Dio espira quindi fiata quindi che cosa fa? comunica la sua vita la sua gioia il suo fiat fuori di sé quando inspira si aspetta l'inspirare di Dio è il ricambio d'amore di gratitudine di adorazione di gloria datogli dalla creatura intelligente dice ma io questo non lo trovo quasi mai per cui mi resto sempre mezzo 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 soffocato non sentendolo venire in noi perché c'è l'ingratitudine dell'uomo che disconosce disprezza offende questa vita in lui medesimo sentiamo tutto il peso dell'ingratitudine umana questo è un altro tema ricorrente tipico e come abbiamo avuto modo di meditare in questo mese ormai volgente al termine tra l'altro che si allaccia molto alla spiritualità del sagratissimo cuore di Gesù che comprende anche una sorta di divino lamento di Gesù appunto perché i suoi eccessi d'amore continui e indicibili completamente misconosciuti disprezzati offesi spesso e volentieri e che esigono riparazione sappiamo anche molto molto bene insomma che Gesù ha insegnato a Luisa queste riparazioni anche e soprattutto quando si fanno i giri perché una componente essenziale del giro è appunto il ricambio del nostro ti amo ti adoro ti benedico ti ringrazio non solo per noi ma per tutti e per tutti ci sono tutti quelli che volendo usare una frase che viene da Fatima per tutti quelli che non credono non adorano non sperano e non amano il Signore non spero Grazie. 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 Grazie per comprendere, come Gesù ci ha spiegato, che le conoscenze sono la base ma che nella divina volontà poi bisogna viverci e che l'attenzione è anche da avere a cercare di conoscerla, quindi ad esercitare le virtù, anzitutto della prudenza, per imparare a fare l'opportuno discernimento e non agire in maniera scriteriata e responsabile, questo è un punto importante per cui io veramente ti chiedo come sacerdote, per me e per tutti, di intercedere, di muovere le coscienze perché comprendano l'importanza di queste cose e non facciano sciocchezze, insomma, scelte di cui ci si può pentire o appunto scriteriate, magari anche pensando che stanno facendo la volontà di Dio o che comunque tanto poi ci pensa il nostro Signore ad attappare i guai che facciamo, cosa che sotto certi punti di vista è vero, ma il nostro Signore Santo Maso dice che lo fa per accidente, non perché noi ci crogioliamo su questo, ma quando purtroppo il nostro malgrado ci abbiamo provato a fare qualcosa di bene e la facciamo fatta storta, certamente che il nostro Signore c'è il potere di raddrizzare una linea storta, ma il fatto che lui c'è il potere di farlo non ci autorizza a farla volontariamente storta, il fatto che Dio perdoni i peccati non ha dato a nessuno, dice San Paolo, il permesso di peccare. Ecco, ottiene a tutti quanti i tuoi figli questa lucidità mentale per poter vivere ed intendere rettamente e correttamente le meravigliose conoscenze che il Signore ci dona attraverso questi scritti. Fiat Ave Maria